Questa mattina i carabinieri della stazione di Angri hanno denunciato 15 giovani, tutti di età comprese tra i 17 e i 29 anni, in quanto ritenuti responsabili di rissa aggravata. I fatti risalgono alla serata del 18 luglio, quando una telefonata prevenuta sul 112 del reparto territoriale di Nocere Inferiore aveva segnalato una violenta rissa scoppiata nella centralissima Piazza Doria. I carabinieri hanno accertato che la rissa aveva visto contrapporsi due gruppi, uno di giovani angresi e l'altro di coetanei provenienti dalla vicina città di Sant'Antonio Abate, i quali erano entrati in attrito a partire dalla precedente serata, verosimilmente a caso di un apprezzamento poco gradito rivolto ad una ragazza. I giovani erano poi rapidamente passati dalle parole alle vie di fatto, dando luogo ad una violenta lita nel corso della quale un giovane abbatino era stato raggiunto da due colpi di arma da taglio al torace ed un braccio. Per tutti i partecipanti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata, mentre le indagini proseguono per identificare sia l'autore del ferimento che l'eventuale coinvolgimento di ulteriori ragazzi.